il brigatiere d'acquisto venite qui amanti capitano blocca ritiene che si tratta di un attentato e che i responsabili vadano cercati dalla popolazione no non abbiamo fatto niente niente parte per l'altro qui non c'è Irene come non c'è non c'è salvo acquista e la guerra voi volevate il nome sono stato io salvo d'acquisto mercoledì alle 21 e 30